Enrico assiste con grande entusiasmo a un allenamento di judo rievocando i movimenti con le mani e le spalle l'allenatore se ne accorge e quando il padre si presenta per cercare il figlio l'allenatore informa il padre dell'interesse del figlio per il judo e lo incoraggia a iscriverlo il giorno dopo il padre di Enrico lo accompagna all'allenamento e si unisce a lui per sostenerlo